Sono in corso le indagini dei carabinieri sulle cause del decesso di Franca D'Agostino, la 77enne trovata senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione di Vianno a Teramo. La donna è stata ritrovata nel suo letto dopo che i vicini di casa hanno lanciato l'allarme, insospettiti dall'odore e nauseabondo che proveniva dall'appartamento nel quale l'anziana viveva insieme alla figlia di 43 anni. Quest'ultima all'arrivo dei vigili del fuoco alle 13, uscita di casa e qualche ora dopo è stata rintracciata a Giulianova. Ai militari dell'arma detto aspettavo che mamma si svegliasse. Un primo esame esterno sul cadavere, escluso segni di violenza sul corpo in avanzato stato di decomposizione. Si attende l'esito dell'ispezione cadaverica odierna e della probabile successiva autopsia per avere ulteriori elementi e stabilire cosa ha determinato la morte di Franca D'Agostino. I vicini di casa parlano di una famiglia tranquilla di non aver mai sentito litigare madre e figlia. L'anziana riferiscono, non la vedevano da tempo e la figlia è una donna molto riservata. Questo fatto di cronaca rappresenta anche una storia di degrado e solitudine in un quartiere popolare di Teramo. Il dramma di due donne che non avendo una rete parentale si sono create e costruite quello che era il loro mondo. E nel momento in cui il mondo composto a due viene meno per il decesso di uno dei due pilastri di questo mondo, l'impalcatura carolla. Ed è quello che è crollato a Sara e riesco, se mi cerco di estragnare da quelle che sono le mie convinzioni, anche a capire la sua paura e il fatto di non essere riuscita con lucidità a gestire una situazione nell'immediato così sofferente per lei, duplice perché veniva meno, non soltanto l'affetto materno, ma anche quello che era l'elemento principale del suo mondo. E quindi il rifiuto della realtà e una volta percepita con la lucidità che stava intervenendo il mondo esterno, la sua fuga era forse in quel momento l'unica realtà che vedeva come via d'uscita. Va specificato che il comune di Teramo in passato era già intervenuto per aiutare questa famiglia. Il comune si era attivato, avevamo avuto questa segnalazione di questa difficoltà più che altro di natura psicologica della signora Franca, tramite la... la signora Franca era presa in cura dal CSM, dal Centro di Salute Mentale, seguita come cargiver dalla figlia Sara che è inoccupata e quindi si dedicava completamente a quella che era la figura genitoriale materna. Noi siamo intervenuti, anzi avevamo chiesto in realtà anche un intervento congiunto con il Centro di Salute Mentale a visionare l'appartamento di queste due signore, un appartamento decoroso sicuramente, modesto, che non presentava aspetti di scarsa igiene, ma dimostrava quello che era il loro mondo, la presenza di questi due gatti e forse le finestre chiuse in maniera quasi quotidiana denotavano proprio un rifiuto esterno.